Buon pomeriggio amici di GenteVip, continua la grande carellata degli ospiti presenti qui al palazzetto Tiziano Cioti di Anagni ed è con noi Alessandra Barilari, coreografa e anche lei impegnata in questa Dance Explosion Competition. Carissima Alessandra, come nasce la tua carriera? Io ho iniziato all'età di tre anni, quindi Accademia di Danza e poi mi sono diplomata alla Royal Academy di Londra. un percorso principalmente proprio classico, dopodiché da lì facciamo tutto, flamenco, moderno e quant'altro, fino ad arrivare ad oggi ad essere anche coreografa. Quali sono i tuoi progetti futuri Alessandra? So che ne hai diversi, molto molto interessanti. Al momento c'è questo film, quindi diciamo che possiamo parlare di questo film che noi andremo a fare. Cerchiamo ragazzi veramente talentuosi ma soprattutto con tanta voglia di emergere, tanta voglia di far vedere ciò che hanno dentro. Quindi sì ok la tecnica, sì ok ovviamente la bella presenza, ma quello che vogliamo è l'emozione. Assolutamente sì, ricordiamolo, il film lo possiamo anche vedere, Dancing Dream, il sogno di mia madre, che vede protagonisti, fra l'altro i talenti, che possono nascere proprio dal territorio e dalle varie piazze che il progetto andrà a toccare. E cosa ti senti, diciamo, di poter dare ancora alla tua carriera? Senti che c'è qualcosa che ti manca o sei soddisfatta così? Diciamo che noi artisti vogliamo sempre migliorare e sicuramente troviamo sempre nuove strade per poterlo fare. Assolutamente sì. In bocca al lupo per la tua carriera, grazie per essere stata con noi, un saluto agli amici di GenteVip. Ciao, grazie. A fra poco con tanti tanti personaggi.